Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo To Fire. Tekken, pugno di acciaglio. Il mio picchiaduro preferito, per quanto nel tempo me ne sono appassionato sempre meno, arrivando a finire eventualmente solo la campagna principale col mio personaggio preferito sin dalla prima volta che provai il secondo capitolo, Yoshimitsu. Fatemi sapere la vostra. Al nono posto, Tekken, nel 94. Pregio, rivoluzione nel picchiaduro che passa ad avere un tasto per azione differente a legare un arto ad uno dei quattro tasti principali, che fosse dello stick arcade o del pad PS1. Difetto, lento. Probabilmente un ottimo lavoro per il tempo in cui uscì, ma è comunque incredibilmente lento. Poi noi che avevamo le persone palle. All'ottavo posto, Tekken 4, del 2001. Pregio, probabilmente la demo da me più consumata al tempo che fu. Attendevo tantissimo la nuova interazione con nuovi personaggi di Tekken dopo aver consumato il terzo capitolo. Nota di merito per Violet, gratuitissima skin di Lichia Olen, assente in Tekken 3. Difetto, roster minimo e neanche tanto variegato. Senza contare il trauma che mi diede i Hashi col fundosci la prima volta che lo vedi. Al settimo posto, Tekken 6, del 2007. Pregio, il core roster di Tekken pare essersi solidificato in questa interazione per settima generazione, e levante i concetti del precedente capitolo, ma in sasso HD. Difetto, le nuove aggiunte non mi fanno impazzire. Leo e Zafina cadono subito nel dimenticatoio, e ho dovuto ricontrollare per l'esistenza di Miguel. Passa bilirarsi a Lisa, ma più per una loro importanza nella storia che per veri e propri meriti. Al sesto posto, Tekken Tag Tournament, del 1999. Pregio, finalmente un titolo che racchiudeva tutti i precedenti personaggi in un'unica formula, oltre all'aggiunta del facoltativo, e sottolineo, facoltativo, Tag Mod. Una sorta di Tekken 3 potenziato per la successiva generazione di console. Difetto. Purtroppo non è stato così, e Tekken Tag si dimostra molto più lento del terzo capitolo su PS1, arrivando a preferire, dopo varie ore di gioco al titolo PS2, di tornare sul titolo precedente, a quella velocità che mi aveva abituato davvero male. Al quinto posto, Tekken Tag Tournament 2, del 2011. Pregio, diretta evoluzione del precedente, anche Tekken Tag 2 riuniva tutti i roster precedenti in un solo titolo, e, pratica da encomiare, varie aggiunte sono state rilasciate sotto forma di patch gratuita. Difetto. Oltre l'assenza del David Il-Kazooia del film, incluso invece nella demo, il difetto maggiore di Tekken Tag 2 si ritrova purtroppo nelle sue meccaniche andate a peggiorare nel corso degli anni, tra cui il Bound. Al quarto posto, Tekken 2, del 1995. Pregio. Primo titolo da me provato ed evoluzione totale del primo capitolo, nel roster e nelle meccaniche. Era inutile giocare il primo capitolo nel caso si avesse il secondo, rappresentandone un miglioramento a tutto tondo. Difetto. Sono sempre stato un fautore della scoperta dei segreti in game, ove possibile, e mi dispiace che due personaggi segreti, Alex e Roger, siano apprendibili solo attraverso un metodo praticamente impossibile da capire da soli. Al terzo posto Tekken 7, del 2015. Pregio. Finalmente, dopo anni dal sesto capitolo e dopo un Tag 2 ai limiti del rimbalzo, si ritorni in vetta con Tekken 7. Core di nuovo limitato e Bound quasi totalmente assente, l'evoluzione di cui il brand aveva bisogno. Difetto. Modalità arcade assente e campagna limitata ai soli Mishima. Jolly per le Rage Art con un singolo tasto. Lo so io quanto tempo ho perso per imparare lo Shungo Kusatsu di Akuma in Street Fighter Alpha 3. Al secondo posto Tekken 5, del 2004. Pregio. Il picchiaduro, di per sé, dovrebbe sempre andare a migliorarsi, ed è quello che avevo constatato con Tekken fino al terzo capitolo, per poi perdere la fiducia col Tag e col 4. Tekken 5 riprende in mano tutto ciò e, nonostante non sia il mio preferito, riesce ad essere il migliore sotto i punti di vista principali di un picchiaduro, roster e cura dei personaggi. Difetto. La modalità Devil Within è solo una biega imitazione 3D del Tekken Force. E al primo posto Tekken 3, del 97. Pregio. Nonostante la mia prova continua e ripetuta con la versione PAL, ciò che ha reso Tekken 3 il mio terzo gioco preferito in astoluto è la sua velocità. Personaggi veloci, movimenti rapidi e minimi ritardi nelle azioni. Non ho più trovato un picchiaduro così fino a Tekken 5. Difetto. L'arena del Dottor Bosconovic. Un inutile quadrato per consentire al Dottore di poter scivolare attraverso le tre dimensioni, rendendo lo scontro inutilmente complesso. E con questo è tutto anche per quanto riguarda questo Out of Fire. Il prossimo sarà molto particolare perché parlerò dei giochi legati all'universo di Drakengard, quindi i tre Drakengard e i Nier, in maniera diversa dal solito. E quindi noi ci vediamo al prossimo Out of Fire. Me ne accorgerei! Out of Fire! Out of Fire! Grazie a tutti.